il trono di spade italiano salve a tutti i signori e bentornati sul mio canale anche questo martedì andiamo a parlare dell'impero delle cressidre di mario attilieni ora andiamo a approfondire un po di più la storia inutile che vi faccio di nuovo tutta quanta la premessa anche se ovviamente vi ricordo che i link per l'acquisto del libro sono in descrizione ogni martedì porterò delle highlights del libro quindi andremo a conoscere i punti salienti di tutta quanta la storia e niente vi lascio direttamente all'ascolto ovviamente letto dal medesimo sottoscritto del primo capitolo del quarto capitolo di questa bellissima opera e niente le considerazioni le facciamo dopo buon ascolto capitolo 4 il mare aveva il colore dell'aurora una nave battente bandiera vasaziana si era da poco lasciata alle spalle il nero avvolgente tipico delle notti in cui si naviga senza stelle mentre il cervo dorato degli osberg si dimenava al vento dal posto di guardia situato sull'albero maestro della sentinella levò un grido che svegliò chi tra l'equipaggio stava ancora dormendo nave in vista difficile capire a chi appartenesse la nave in arrivo non tanto perché non si riuscisse a scorgerla bene quanto piuttosto perché si trattava di uno stemma mai visto almeno per quanto concerneva la sentinella il capitano malvis era sveglio da quando era ancora notte fonda difficile dormire in maniera regolare quando si è in mare e ancor di più quando si è al comando di una nave la legge era chiara in tema di diritto della navigazione il capitano sul vascello rappresenta il re malvin si eresse dritto come un fuso sul ponte di comando scrutando quell'imbarcazione che faceva rotta inesorabile verso la sua forse la luce del mattino non era ancora sufficientemente nitida ma quella nave aveva un fare alquanto minaccioso puntava dritta l'obiettivo finalmente malvins la mise a fuoco e rimase di sasso nel rendersi conto che era piena di uomini armati e pronti all'assalto non c'era tempo per fuggire ce n'era a malapena per prepararsi a fronteggiare l'arrembaggio achille stava ancora dormendo il sonno era talmente profondo che sentiva solo delle grida indistinte fu un risveglio particolarmente traumatico un risveglio violento e improvviso un calcio unito a un'imprecazione maledetto a te ragazzo cosa cazzo dormi svegliati ci attaccano achille vide di soprassalto davanti a sé una brutta faccia sfregiata un marinaio puzzolente che dopo aver bracciato contro di lui si era già rivolto all'altro uomo che achille si ricordava accanto era dante suo padre e anche lui veniva preso a calci dal ceffo padre e figlio si guardarono ma non si dissero niente nel frattempo il brutto ceffo si era già disinteressato di loro ed era corso via verso il ponte di comando papà ma chiese achille a quel punto come a dire dove siamo cosa è successo dante rimaneva attonito i sensi assaliti da quel puzzo di pesce misto all'odore di salmastro e ad altri puzzi indistinti ma forti insopportabili intorno a loro come sul set di un film di pirati si stavano assiepando uomini armati che guardavano verso l'esterno della nave pronti a subire l'impatto ad amplificare quel baccano infernale le urla spiritate provenienti dalla nave nemica che si appressava sempre di più padre e figlio si alzarono a fatica si guardarono indosso e realizzarono con sorpresa di essere ancora in giacca e cravatta pronti per il diciottesimo si trattava tuttavia di un dettaglio trascurabile in quel frangente visto che ebbero a malapena il tempo di vedere il rostro della nave avversaria calare con violenza sulla prua della loro solo quel punto realizzarono di trovarsi a poppa il combattimento fu breve e avvenne per loro fortuna interamente sul lato opposto di quello dove si trovavano i nemici risultarono superiori in numero e forze e malvins non poteva far altro che ordinare all'equipaggio di deporre le armi il capitano si fece avanti con fierezza verso un uomo in armatura che sembrava essere il capo degli assalitori achille pensò di essere in un film oppure di stare ancora sognando deliberò infine per il sogno non poteva trattarsi di altro tuttavia il metodo che solitamente utilizzava per destarsi dagli incubi sembrava non funzionare fin da piccolo tutte le volte che lo raggiungeva la consapevolezza di trovarsi all'interno di un incubo riusciva a svegliarsi spaventato e tutto sudato non quella volta il sogno sembrava continuare a ghermirlo fece come per aprire gli occhi ma non si ritrovò nel suo letto caldo tutto sudato bensì ancora sul ponte di quella nave attorno a lui uomini probabilmente pirati vestiti con costumi medievali in assetto da guerra accanto a sé aveva suo padre però e dante benché più volte sollecitato dal figlio non aveva ancora aperto bocca pietrificato dalla sorpresa e dallo spavento intanto malvins disarmato si era fatto avanti e si era fermato impettito come se potesse tracciare sul ponte una linea che gli assalitori non potessero oltrepassare in nome di rezzo primo della dinastia osberg re di vassazia intimò con tono solenne ma fu subito uzzettito avete sconfinato nelle acque territoriali della generalità di porto profumato qui il vostro re non ha alcuna autorità tuonò l'omone di fronte a malvins il regno di vassazia non riconosceva certo l'indipendenza della neo rinata generalità di porto profumato ma malvins era abbastanza intelligente e lucido da capire di non essere nella posizione di poter fare disquisizioni di carattere storico politico per cui la mise dal punto di vista tecnico della diplomazia e protestò con forza questa è una nave nunziatrice disse andiamo in missione diplomatica in genubia se questa è una nave diplomatica dov'è il messo chiese l'omone con un sorriso beffardo dopo essersi tolto l'ermo il nunzio lo corresse stizzito malvins sono qui si udì una voce roca proveniente dalla retrovie vasaziane sono angsel luric lordi ritum nuncio di sua maestà re ex supremo osberg re di vasazia specificò fiero e si affiancò solenne accanto a malvins chissà che espressione avrà il tuo re disse con medesimo ghigno di sfida l'ammiraglio profumatese sguainando la spada quando si vedrà recapitare al palazzo di giaffiro la testa del suo messo farà lo stesso con i vostri nunzi lo avvertì luric per nulla intimidito il comandante si girò verso i suoi e indicando con un ampio gesto della mano la ciurma vasaziana ordinò prendeteli prendeteli tutti e portateli via hanno violato le acque sovrane della generalità sarà il senato a decidere la loro sorte dante guardò il figlio mentre i soldati profumatesi in malo modo portavano via anche loro achille ripete cosa è successo dove siamo il padre vide nitidamente il terrore negli occhi del ragazzo non se n'era accorto fino ad allora perché era troppo frastornato egli stesso non lo so non ho idea di dove siamo non capisco ma in realtà non aveva voluto dirglielo perché non era ancora sicuro di volerlo ammettere a se stesso nel frattempo a porto profumato il senato era riunito nel palazzo della generalità e rispolverando un cerimoniale vecchio di secoli aveva proceduto all'elezione del console l'ultimo console profumatese aveva giurato a nome della generalità fedeltà a oriam il grande dell'anno 1 e g l'imperatore lo aveva di fatto lasciato in carica nominandolo occhio su porto profumato ma poi quando un paio di anni più tardi il suddetto console era morto lo aveva sostituito con un occhio di nomina imperiale la procedura per l'elezione della più alta carica della generalità era relativamente complicata ma lo era di proposito al fine di evitare problemi politici di varia natura cosa ne pensate di questo ascolto come vi è apparso io mi sono sentito un po più immerso nella storia giustamente ancora è tutto molto nebuloso quindi ci troviamo su una nave una nave pirata quindi l'ambientazione cambia completamente e i buoni dante e achille si ritrovano in una situazione completamente aliena con persone che parlano di regni e situazioni che ovviamente non sono mai stati sentiti prima se non forse dall'autore ma questo non lo so nemmeno io quindi lo scopriremo più avanti dall'autore intendo del libro all'interno della storia non di mario attivieni che ovviamente la storia la sa quindi signori fatemi sempre sapere cosa ne pensate nei commenti ancora pochi di voi mi dicono in realtà mi danno dei feedback concreti alcuni si alcuni no e sappiatemi dire cosa ne pensate mi raccomando iscrivetevi al canale mettete mi piace al video andate a guardare il libro andate a vedere un po l'acquisto guardate il prezzo se vi può piacere o meno e acquistatelo leggetelo poi vi volevo ricordare di seguirmi anche su instagram perché purtroppo siamo veramente pochissimi di sopra qua siamo 5.000 circa su youtube e su instagram siamo ancora 240 241 persone lo so è un po meno avvincente però lì carico le mie letture dal vivo e anche altri spezzoni magari di altri libri in futuro e alcuni vlog per esempio la fiera di cesena che ho caricato poco fa perciò fate tutte queste cose che tanto sono gratis approfondite l'impero delle clessidre e noi lo approfondiremo insieme se non siete ancora convinti martedì prossimo con un altro capitolo penso il capitolo 13 che si fa un po più cruento un po più sanguinario ciao a tutti voglio bene alla prossima